Così come sto sottolineando più volte in queste ore c'è la necessità che il Ministro dell'Interno riveda le scelte del Viminale sulla città di Napoli. Io apprendo a ulteriore conforto di quello che sto dicendo, è un pensiero mio e dell'amministrazione. Anche stamattina viene disposto un ulteriore rinforzo di uomini per la città di Milano. Io credo che un Paese deve avere ed indicare delle priorità. Così come è sicuramente prioritario, massimamente prioritario, la prevenzione contro qualsiasi ipotesi di rischio terroristico nella nostra città. Chi sottovaluta e chi si permette di ridimensionare o di sindacare scelte che non ci appartengono. Però sono mesi che nei luoghi deputati, Ministero dell'Interno, Prefettura, noi come amministrazione sottolineiamo tra le varie cose l'esigenza di un rafforzamento ulteriore delle forze dell'ordine che fanno un lavoro encomiabile in condizioni difficili e rischiose nella nostra città. Spesso ci è stato detto che non ci sono uomini. Per capire che quando c'è bisogno degli uomini, gli uomini escono. Io credo, siccome è un fatto che sta andando avanti da alcuni mesi a Napoli, quindi ben prima che ci fosse questa emergenza terroristica internazionale nel mondo, io credo che si deve rivedere questo dato. Io parlo con i miei concittadini, ascolto e c'è una preoccupazione in città, in diversi quartieri. Siccome Napoli è una città viva e che in particolare sta vivendo una stagione di risveglio civico, di partecipazione, di ondate turistiche senza precedenti, noi vogliamo che ci sia una percezione anche della sicurezza maggiore nella nostra città e questo può passare senza sforzi straordinari, misure eccezionali, militarizzazioni. Un rafforzamento che possa consentire di avere più personale in divisa per strada, pattuglie. Tra l'altro Napoli non è una città grandissima, non è come Roma, è come Milano. Qui non si parla di sforzi enormi. Io credo che questo è dovuto a una città che si sta tirando fuori da sola da una situazione difficile e che ha dichiarato guerra alla camorra anche sotto altri aspetti, con la politica, con le associazioni, con il popolo, con i movimenti. Quindi come percepisco da tempo questa sensazione, insomma il mio è un appello sentito, accorato, doveroso e fondato secondo me al Ministro dell'Interno di avere un riguardo maggiore per delle esigenze oggettive della cittadinanza. Un po' di uomini, io l'ho detto anche mi pare ieri, un po' di uomini, parlai anche di segnale incoraggiante, ci fu, lo ricorderete anche voi, quest'estate. Infatti qualcosa si è visto in città, qualche posto di blocco in più c'è stato, però noi percepiamo il fatto che ancora poco rispetto alla risposta omicidiaria che continua a esserci nella nostra città. Non possiamo non vedere che ci sono omicidi che ci preoccupano. Quindi non è un dato criminale in generale, perché sui dati statistici della criminalità non viaggiamo verso un peggioramento, stiamo diciamo in linea con quello che è la statistica degli anni precedenti, anzi per alcuni reati ci può stare anche un piccolo dimensionamento. Stiamo là a vedere tra Roma e Milano, ma gli omicidi fatti in pieno giorno sono un dato da non sottovalutare o quello che è accaduto ieri a Vico San Matteo, che insomma si entra dentro alla fine a una palestra, sono dati che non possono essere considerati ordinari amministrazioni. Almeno noi che abbiamo completamente chiuso la porta all'interlocuzione della politica con la criminalità organizzata e con la camorra noi non ci rassegniamo a considerare fatti ordinari, questi qua ho fatti tollerabili. Quindi io credo, siccome so, anche per aver fatto il magistrato e anche per averlo detto tante volte in comitato e avendo trovato la sensibilità di questo prefetto e dei vertici alle forze dell'ordine che sono bravi nella nostra città, io so che non c'è bisogno di misure eccezionali e straordinarie. Per Napoli parliamo di un rafforzamento che deve essere garantito, così come l'hanno garantito. Insomma, ieri il Ministro parlava di 24 mila uomini per il giubileo, migliaia di uomini per l'Expo, lo vogliamo dire che per l'Expo la sicurezza è stata garantita anche da Napoli, cioè che appartenenti alle forze dell'ordine sono andati da Napoli verso l'Expo. Allora, se poi un Paese ritiene che l'Expo sia più importante di una serie di omicidi che sono avvenuti nella nostra città, lo si dica pubblicamente, si dica, il Governo considera un fatto che dobbiamo, come quello che dicevano si deve convivere con la mafia, quell'altro dice il DNA, ma magari non c'è due senza tre, sentiremo il Ministro, ma tutto sommato è normale, vi dovete abituare che c'è qualche omicidio. Quindi io credo che qualcosa in più vada fatta e segnali, francamente, io in questi giorni non ne ho visti.